Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe, siamo sempre su Wootering Waves per darvi qualche consiglio sul come formare gli Overlord. Oggi parliamo dell'uccellaccio del Malaugurio, ottimo uccellaccio che fondamentalmente è il capostipite se non l'eco di livello 4 da equipaggiare per tutti i vostri supporti. Infatti il piccione del Malaugurio è l'eco da costo 4 per la build di Mooning Light, se non mi ricordo male, che è proprio quella struttura di build che vi consente di ottenere il massimo dai vostri supporti. Quindi da quei personaggi che magari entrano, fanno l'attacco, rilasciano praticamente un po', vi danno praticamente un po' d'ossigeno e poi escono nuovamente dal campo per immettere il vostro DPS principale. Un po' come io builderò la mia YinLin fondamentalmente, perché la mia YinLin sarà appunto la support di Calcaro, o Calcaro non lo so, Calcaro mi sembra un po' male, però Calcaro credo che sia il nome più corretto. Detto ciò, il piccione ha qualche mossa infame, a differenza di tutti gli altri overlord che abbiamo visto, il piccione è un po' infame, perché possiede comunque dei colpi di ala che non sono leggibili al 100%. Uno dei più infami è sicuramente il colpo d'ala caricato, che sembra arrivare subito, in realtà arriva dopo un po', quasi proprio come un Souls in questo caso, bisogna temporeggiare veramente fino all'ultimo. Mentre invece tutti quanti gli altri attacchi, come la raffica di piume, il doppio colpo d'ala, la planata, la picchiata, sono comunque tutti degli attacchi abbastanza leggibili. Bisogna comunque farci un po' d'occhio le prime volte, anche io tuttora prendo qualche pizza, può capitare che il piccione in questione possa comunque darmi qualche pizza, però c'è una cosa che comunque si deve sfruttare da subito, da sempre e da subito, ovvero il fatto che il piccione impiegherà qualche secondo per mettersi in piedi. Quindi se riuscite a fare un personaggio abbastanza forte, riuscirete praticamente a scioglierlo ancora prima che possa combattere, mentre invece per quelli che ancora non hanno una build forte o comunque non hanno una build dove possono effettivamente contrastare un nemico di questa portata, possono fare già comunque una buona quantità di danni da subito e poi successivamente gestirla con i suggerimenti che comunque cercherò di darvi nel miglior modo possibile. Detto ciò, anche questo è un altro Overlord che aggiungiamo alla lista, ne mancano pochi ormai, forse altri due addirittura, o due o tre, forse tre addirittura, quindi ragazzi io vi lascio con le spiegazioni e con i miei consigli. Allora, per quanto riguarda l'uccellaccio del malaugurio, una delle cose da sfruttare subito è il fatto che impieghi qualche secondo per alzarsi, quindi come potete vedere già si può fare qualche danno per riuscire a buttarlo giù e qui iniziamo subito col primo attacco. Primo attacco d'ala, che come potete vedere è questo, a mio avviso, è l'attacco più infame che lui possiede nel kit, perché è un attacco temporeggiante, un po' come nei souls dove ci sono quei nemici che praticamente caricano l'attacco e rimangono con quell'attacco caricato per un po' di tempo facendovi fallire la sequenza di schivata. Ecco, qui è la stessa identica cosa. Fate attenzione perché è vero che l'ala si illumina subito, ma l'attacco, vedete, arriva giù dopo un po'. Quindi fate caricare l'ala, nel momento in cui carica l'ala aspettate circa un secondo e dopodiché potrete schivare. Successivamente potete fare attacco in counter, potete comunque cercare di sfruttare il vantaggio e ovviamente continuare a far danni. Attacco in planata, o comunque in picchiata in questo caso, dove dovete aspettare un paio di secondi. Nel momento in cui vedete che il boss si trova perpendicolare a voi, quindi nel momento in cui raggiunge praticamente la vostra testa, inizierà a fare la picchiata, quindi appena vi raggiunge e lo vedete e vedete il boss in corrispondenza proprio sopra di voi, potete schivare perché, come potete vedere, la fiammata si espande, però è appunto la fiammata quella che vi fa danno, oltre alla caduta, se ovviamente il boss vi colpisce. Quindi a voi interessa schivare per evitare la picchiata e al tempo stesso evitare poi la propagazione della fiamma. Poi avete una buona finestra per poter fare una piccola combo. E successivamente parte l'attacco in parry. Quindi nel momento in cui il vostro avversario si alza in volo e rimane fermo perché non cerca di raggiungervi subito, la differenza tra l'attacco in picchiata e l'attacco in parry è proprio questa. L'attacco in parry la distanza viene mantenuta dal boss, mentre invece l'attacco in picchiata è la distanza che viene ridotta subito dal boss. Quindi questa è una cosa molto importante. Attacco in parry che vi consiglio di fare, se volete ovviamente parriare, da fermi. Cioè voi non vi dovete muovere e attaccate nel momento in cui l'impatto è imminente. Se vi muovete tramite schivata o tramite corsa è molto difficile che il gioco riconosca la parriata. Purtroppo questo è un piccolo problema come nei Souls dove bisogna essere a una certa distanza o comunque bisogna essere in un certo range per poter triggerare l'animazione di parry. Qui è la stessa cosa, se voi in un modo o nell'altro state correndo e vi spostate di lato verso il vostro boss o addirittura riuscite a uscire dal suo campo visivo e poi tentate di fare il parry, è molto probabile che il gioco vi dia ovviamente il danno, come praticamente è successo a me e vi farò vedere anche quando. Quindi la cosa migliore da fare è se non siete pronti con il parry o schivare oppure aspettare l'ultimo istante e fare una intro skill di un altro personaggio. Perché la intro skill ovviamente vi consente di breccare, vi consente di parriare, quindi potete scegliere benissimo le due strade. In base a come vi sentite meglio agite. Successivamente abbiamo una buona finestra di danno, qui invece abbiamo l'attacco con le piume che vengono lanciate. Anche in questo caso la cosa importante da notare è quando si illuminano le ali. L'illuminarsi delle ali sarà il vostro campanello d'allarme, quindi ogni volta che vedrete illuminarsi le ali, tranne, vi ricordo, per l'attacco d'ala, quello iniziale dove lì appunto l'infamata è il fatto di non fare subito l'attacco rispetto agli altri, è proprio guardare le ali. Nel momento in cui si illuminano voi potete iniziare a schivare e potete evitare l'attacco. Altro attacco parriabile che questa volta non viene dall'alto ma viene dal basso, dove è praticamente la stessa cosa, quindi o state fermi e parriate, oppure cercate di schivare, oppure entrate con una intro skill. Questi attacchi è molto probabile che vengano fatti quando vi allontanate, quindi se in un modo o nell'altro volete baitare il vostro avversario, potete cercare di allontanarvi e potete cercare di aspettare il momento buono per poter parriare, se vi sentite confident con la parriata. Se invece non vi sentite in confidenza o comunque non avete grandi capacità di parriare e vi piace schivare o comunque siete più abili con la schivata, va bene lo stesso, solo che la parriata o comunque la possibilità di poter bloccare l'attacco vi dà un grandissimo vantaggio strategico. E quindi vedete, io qui in questo caso ho tentato di fare il parri ma mi stavo muovendo, perché stavo andando verso il lato. Come vi dico sempre, la cosa importante di questi nemici è cercare sempre di aggirarli, quindi sempre cercare di andarli alle spalle. Nel momento in cui gli andate alle spalle, resettate fondamentalmente la loro, diciamo, la loro Q di comandi. Quindi il boss non saprà effettivamente cosa fare e rielaborerà una nuova strategia, che solitamente ricomincia dall'inizio rotazione. Quindi se voi sapete bene la rotazione del vostro boss, avrete la possibilità di conoscere già gli attacchi e quindi giocare meglio. Infatti come potete notare qui, io mi sono mosso mentre ho tentato il parri e ho preso il danno, perché appunto il gioco non ha riconosciuto la mia posizione corretta e quindi mi ha fatto danno. Successivamente, altra finestra dove si può fare danno. Vedete che il boss ha comunque, dopo gli attacchi, delle piccole finestre dove è possibile attaccare, perché sta fermo, avanza lentamente, non fa chissà che cosa, quindi lì è il momento giusto per attaccare. A questo punto vedete nuovamente ala caricata, però vi ricordo che questo è l'attacco infame, che bisogna aspettare un attimo, quindi appena vedete l'area illuminata non schivate. O se proprio volete schivare, la cosa che vi consiglio è fare più schivate consecutivamente e cercare di arrivare alle spalle. Se riuscite ad arrivare alle spalle, l'attacco non vi colpisce e il boss non continua l'animazione. Io qui ci ho provato, ma come potete vedere mi ha colpito. Quindi primo colpo d'ala, secondo colpo d'ala, che solitamente vi colpisce. Qui a me non mi ha colpito perché stavo girando, come vi ho detto prima, alle spalle e quindi girando alle spalle non mi ha colpito, ma fate attenzione perché gli attacchi d'ala solitamente sono due. A questo punto il boss si allontana da solo e come potete vedere nel momento in cui si allontana va di parry. Solo che io qua questa volta l'ho letto bene e boom, e come potete vedere l'ho bloccato. Sono stato fermo, se avete notato sono rimasto immobile e ho fatto l'attacco nel momento in cui si stava avvicinando. Facendo così lo breccate e nel momento in cui lo breccate lo potete gestire come meglio volete. C'è solo un attacco che in questo caso non si è visto, ma che vi aggiungerò praticamente in montaggio, che è l'attacco dove praticamente il boss respira l'aria, cioè quindi immette praticamente aria e inizia a risucchiarvi verso di lui. Questo attacco ragazzi potete tranquillamente annullarlo, come? Semplicemente correndo, uscendo dal suo campo di assorbimento e andandogli alle spalle. Nel momento in cui gli andrete alle spalle l'attacco verrà automaticamente interrotto, voi potrete attaccare e il boss dovrà riformulare una nuova strategia. Penso che per il resto non ci sia altro da dire, spero che il video possa esservi stato utile. Come sempre vi ricordo un pollicione per supportarmi, un commento o comunque sia l'iscrizione al canale è sempre ben gradita. E noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye! Ciao!